Weinstein, Barak, dato contatti Mossad, Ansamed, Tel Aviv, 8 novembre l'ex premier Eud Barak ha confermato oggi di aver messo in contatto Harvey Weinstein con l'azienda israeliana composta da ex agenti del Mossad con l'obiettivo, da parte del produttore di Hollywood, di mettere a tacere le accuse di violenza sessuale ai danni di dozzine di donne. Barak ha tuttavia sottolineato di non conoscere i motivi per cui Weinstein avesse chiesto quel contatto. La notizia del legame E3-2 è stata rivelata dalla tv israeliana Canale 2. Oltre un anno fa ha sostenuto un portavoce dell'ex premier a Barak stato chiesto da Weinstein se conoscesse una compagnia israeliana di cui aveva sentito parlare. In grado in aiutarlo in alcuni affari che aveva. Barak confermava Weinstein che l'azienda di cui aveva sentito parlare era con tutta probabilità la Black Cube. Ma, Barak non era al corrente fino ad oggi del fatto che l'azienda fosse stata assunta da Weinstein. N. Per quali proposte o operazioni?